Sono molto felice di poter in qualche modo essere lì, tra voi, a Castelvolturno. Castelvolturno è un'occasione magnifica, dico davvero. Non viene colta, anzi viene ignorata, lasciata lì. Castelvolturno è una città italo-africana. Gli immigrati di Castelvolturno lavorano duramente, vivono condizioni difficilissime. Una parte cede alla criminalità, un'altra la subisce, un'altra ancora ne ha paura. Ma proprio perché in quella terra i migranti non sono censiti, sono ormai italiani a tutti gli effetti. Quando dico ormai italiani intendo dire figli che nascono in Italia, lavoro in Italia, tempo passato in Italia. Proprio, proprie emozioni, sentimenti, slanci rivolti alla loro terra, Italia. Sono castellani a tutti gli effetti. Eppure non lo sono formalmente. Avevo molti anni fa, creando indignazione nella leader della destra populista italiana, avevo proposto un sindaco africano, avevo proposto Ivan Segné, l'ingegnere camerunense, d'origine camerunense, che riesce in Italia a far realizzare un diritto, il diritto al lavoro libero dal caporalato. È grazie a lui che abbiamo la legge contro il caporalato. E quindi, in nome di questo simbolo, avevo proposto Castelvolturno con un sindaco di origine africana. E' finito invece un sindaco di Fratelli d'Italia, esattamente il contrario di un piano, diciamo, di rilancio, tolleranza, creazione di una città multietnica in cui investire e non costruire un grande ghetto, come spesso si è ridotto ad essere. Abbraccio i padri Comboniani, che lì spesso rappresentano l'unico spazio di accoglienza e giustizia. Ringrazio tutte le associazioni che sono lì, le ringrazio come essere umano, meridionale, perché ancora fanno battere il mio cardio della solidarietà e della possibilità umana di non risolvere con la repressione, le manette, ma con l'accoglienza, l'ascolto, il lavoro, la progettualità. Insomma, Castelvolturno è la più grande occasione che il Sud possa avere. costruire e realizzare la prima grande città afro-italiana del Mediterraneo. Cosa stiamo aspettando? È ora. È ora. Un abbraccio. Spero di essere presto tra voi. Un abbraccio.